ciao a tutti iniziamo subito con le domande interattive chi qua ha già sentito parlare di nix vedo un po di manine chi è che lo usa nessuno benissimo allora direi che il livello è giusto posso aggiustare un attimo il microfono che avrò bisogno delle mani allora cos'è nix abbiamo visto gestori di pacchetti ma in verità non solo c'è un minimo di overload del term ovvero ci sono un bel po di termini che sono affini c'è nix il linguaggio che è un linguaggio di programmazione c'è nix il package manager che è l'interpreter del codesto linguaggio poi c'è nix pkgs o nix packages che è un repository che usa nix per installare pacchetti e poi c'è nix os che è una distribuzione completa che usa nix come il suo core e poi permetto di aggiungere che questa presentazione liberamente tratta da nix.dev che è un'ottima risorsa per iniziare io non ho iniziato così io ho fatto il percorso inverso che faremo oggi cioè ho iniziato dalla fine copy pastando pezzi di codice senza capire bene cosa cosa succede però anche preparando questa presentazione ho imparato qualcosa di nuovo proprio sul linguaggio mi spiace per voi cercherò di essere veloce ma partiremo dalla parte più noiosa cioè il linguaggio ma innanzitutto vediamo che cosa ci offre nix ci offre un ambiente di sviluppo completo e consistente ci sono un sacco di pacchetti e soprattutto ripetibile supporta moltissimi linguaggi con una sola interfaccia perché io posso scrivermi la build spec del mio progetto e faccio lancio il build con nix non solo posso usare la stessa interfaccia sia durante il mio sviluppo sia in ci cd perché con nix io posso farmi addirittura generare un docker una docker image da pushare e ho anche il rollback che è una cosa molto interessante nel senso che se io aggiorno il mio sistema o aggiorno le mie dipendenze e mi rendo conto che c'è qualcosa che non va io posso fare il rollback allo stato precedente con un comando allora il primo step ovviamente è installare nix il package manager ed è supportato su un sacco di piattaforme linux mac os windows in vsl io l'ho testato su mac os e su windows su mac os l'installazione un po' ziggogolata perché lui si crea un volume per mettere tutto il nix store però alla fine è abbastanza facile l'installer fa tutto lui quindi salteremo direttamente a pie pari questa questo questo step qui l'installer è veramente easy allora che cosa posso fare non appena ho nix installato posso lanciarmi una subshell con un pacchetto presente per esempio se non ho caos sei io posso dire spavano minas shell con caos sei dentro e questo funziona entra nella shell possiamo anche vederlo in verità caos sei ce l'ho già installato vediamo ecco questo ci mette un po' perché ovviamente deve scaricare eventuali cose e qua c'ho caos sei eccolo qua adesso esco e non c'è più in verità non ci sarebbe più se io non l'avessi già installato nel mio sistema di default posso lanciare un comando direttamente così come avete visto anche nella nella mia history e questo non esegue nemmeno una shell ma rana direttamente questo comando questo è molto comodo se ci sono dei comandi che voglio provare voglio sperimentare voglio vedere se funzionano perché magari non sono supportati sulla mia piattaforma lancio questa cosa qua senza dover toccare il file di configurazione senza tenere niente di persistente sul mio computer eseguo il pacchetto e basta una cosa che per esempio a me viene molto utile se magari mi succede di dover compilare qualcosa da sorgente da delle dipendenze che magari non ho installato mi spavano una shell al volo compilo e poi me lo copio tra l'altro almeno p che è quello che serve per specificare i pacchetti supporta più valori quindi posso mettere una lista di pacchetti che mi servono e lui mi spavano una shell con tutto questo non solo io posso anche poi mentre sono dentro una nix shell posso chiamare nix shell di nuovo e lui mi aggiunge un altro pacchetto in sostanza quindi è un po' ricorsiva la cosa quindi posso anche aggiustare il tiro se mi rendo conto che manca qualcosa posso rirannare nix shell e me l'aggiungere all'environment ma parliamo di linguaggio perché è importante perché nix è un linguaggio piuttosto strano per la maggior parte di noi chi qua ha usato un linguaggio puramente funzionale tipo askell o ci sono un po' di mani perfetto allora per voi sarà forse un po' più conosciuto però è un linguaggio dichiarativo quindi non è procedurale funzionale a valutazione pigra lazy evaluation ed è tipizzato dinamicamente un paio di comandi che sono utili per esplorare le basi di questo linguaggio è nix repl nix repl mi tira fuori semplicemente una repl dove io posso fare valutare codice direttamente l'altra alternativa è nix instantiate meno meno eval che importa un file e esegue ne valuta il contenuto questo è ottimo per esplorare un pochino il linguaggio parliamo di valori di base quindi abbiamo interi float stringhe anche multilinea cioè una stringa separata da new lines è un tipo distinto da una stringa normale che è interessante ci sono path anche proprio come tipo di variabile abbiamo liste che sono separate da spazi con le parentesi quadre e abbiamo attribute sets che sono in sostanza delle mappe e poi abbiamo funzioni non abbiamo il classico approccio di variabile uguale valore ma abbiamo il costrutto let che mi permette di di fare un binding cioè di legare un valore a un nome in questo caso abbiamo per esempio leghiamo b a più 1 e a a 1 la cosa interessante è che non è necessario che le cose siano in ordine cioè il blocco viene valutato tutto insieme e qua vediamo che posso valutare al volo queste cose qui la cosa interessante è che io posso usare anche negli attribute sets posso usare rec per definire un attribute set ricorsivo che è in sostanza come se in c o in c++ io prendessi il valore di un altro campo della mia struttura mentre sto costruendo la struttura che è una cosa abbastanza strana una cosa degna di nota è qua non so se vedete nel codice valutato c'è chu uguale code perché? perché questa cosa qua è lazily evaluated quindi soltanto quando andrò a leggere effettivamente l'attributo di chu verrà espanso a 1 più 1 accesso agli attributi abbiamo forse visto già no, lo vedremo qua e con il punto cioè come con le strutture in c++ io accedo con il punto separando i vari nomi con with io posso, un po' l'equivalente del c++ using quindi posso dichiarare che prendo tutti gli attributi di un attribute set come vedete qua io definisco un attribute set che ha tre valori x, y, z e qua se faccio with a qua non serve fare a.x, a.y, a.z ma direttamente x, y e z questo c uguale x questo fallisce no, non l'ho valutato c uguale x fallisce perché ovviamente questo non è sotto il with quindi questo dà un errore perché non conosce il nome x un'altra shortcut che si vede molto spesso usare è inherit allora inherit semplicemente esporta questi due valori dentro questo attribute set quindi mi include queste due variabili come due variabili questo è uno shorthand per evitare di dire x uguale x e y uguale y praticamente mi permette di importare direttamente i nomi l'altra cosa che è utile è interpolazione delle stringhe quindi io posso fare string interpolation direttamente così questa cosa qua è consentita soltanto con stringhe o tipi che sono convertibili direttamente in stringa tipo non un intero quindi tipo stringhe oppure array di stringhe oppure path per convertire cose si usano delle funzioni di libreria che vedremo funzioni altra cosa che sarà sicuramente nota a quelli di Haskell prendono sempre un solo argomento gli argomenti multipli si fanno col carrying non hanno un nome intrinseco quindi così come le espressioni bisogna bindarle a un nome bisogna fare un binding e hanno i due punti come separatore tra l'argomento e il corpo della funzione quindi qua vedete una funzione definita che prende un argomento e ritorna l'argomento più uno per gli argomenti multipli appunto si può usare il carrying così oppure si può definire un attribute set che è un argomento ovviamente quindi questo è l'equivalente di passare una hash map come unico argomento nella funzione e questa la seconda cosa è abbastanza usata direi quasi più della prima quella degli argomenti multipli attraverso carrying possiamo definire dei valori di default per gli attribute set con il punto di domanda e possiamo fare una cosa un po' strana cioè possiamo dire che la nostra funzione accetta alcuni parametri che sono nominati altri parametri invece che non sono specificati colui che chiama la funzione può specificare un nome arbitrario allora se io chiamo una funzione con degli argomenti in più e la funzione non se lo aspetta è un errore se io invece ci metto questi tre puntini qua vuol dire accettami tutti gli argomenti e poi io posso per esempio prenderli per nome in questo modo specificando dando un nome al mio input per quanto riguarda chiamare una funzione semplicemente si mette il nome della funzione e poi l'argomento separato da uno spazio abbiamo ovviamente una abbastanza vasta libreria di funzioni alcune sono built-ins per esempio, grande esempio, built-in to string questo ci permette di convertire per esempio in tearing string tra queste built-ins è degna di nota la funzione import che è così importante che non serve neanche cioè viene importata nel root level quindi io posso chiamare import e poi un path e Nix mi valuta quel file e sostituisce diciamo l'import con il risultato della valutazione di quel file esterno e dopodiché abbiamo pkg-libs questo fa parte di Nix-pkg ed sono funzioni principalmente usate per il packaging cioè per fare pacchetti quindi possiamo usare un sacco di funzioni legate questa qua è un po' generica però molte sono legate per esempio al packaging tra l'altro questa cosa qui la prima volta che l'ho fatta girare ci ha messo una trentina di secondi perché ovviamente adesso lo vedremo anzi analizziamo un po' questo quindi questo è un let quindi stiamo bindando pkgs a un nome qual è questo nome? è import Nix-pkgs cos'è questo? questo è un path di default che punta a Nix-pkgs che è il repository centrale diciamo di tutti i pacchetti Nix che cosa fa questo? ritorna una funzione Nix-pkgs le valutazioni di questo in verità questo è una cartella all'interno di questa cartella c'è un path di default che viene valutato questo path ritorna una funzione che viene chiamata immediatamente con un attribute set vuoto ok? e questo in sostanza mi importa tutti i pacchetti dopodiché questo qua è molto chiaramente un attribute set che ha lib strings to upper to upper è una funzione e qua stiamo chiamando una funzione la prima volta appunto che l'ho girato ci ha messo una trentina di secondi perché ha scaricato l'ultima versione di pkgs perché qua non ho specificato qual è la versione quindi lui prende l'ultima versione il master del repo tutto anzi quasi tutto quello che abbiamo visto finora perché questo esempio qua è un caso di impurezza è puro nel linguaggio funzionale in sostanza non ha side effect quindi dipende soltanto dai suoi input l'impurità per quanto anzi la purezza per quanto pura è poco utile perché i side effect di solito sono la cosa che ci serve nel quotidiano quindi l'impurità è abbastanza utile il caso clatante di impurità è leggere un file dal file system ovviamente perché? perché non è riproducibile cioè io potrei avere il contenuto di quel file potrebbe essere qualsiasi cosa io facendo rigirare lo stesso script modificando il contenuto il risultato è diverso quindi per definizione non può essere pura quindi uno dei casi classici è proprio leggere leggere file file system da usare come build inputs quando io scrivo l'install del mio pacchetto e qua parliamo già di derivazioni che è in sostanza la ragione per cui è nato il linguaggio Nix cioè il linguaggio Nix è usato per descrivere una derivazione che cosa è una derivazione una derivazione è quello che da un set di input mi deriva un set di output quindi da un set di input che mi dicono nome del pacchetto versione cose del genere deriva l'eseguibile ok la cosa bella è che questa cosa qua si può concatenare cioè io posso prendere delle derivazioni come input e costruirmi un'altra derivazione sopra una derivazione di questo di questo tipo per esempio dipendenze ok se io dichiaro le mie dipendenze le mie dipendenze sono altre derivazioni e a loro volta derivano magari da altre dipendenze quindi io mi creo praticamente una specie di grafo che arriva fino alla mia alla mia ultima al mio ultimo software che è quello che voglio girare ovviamente in Nix qua apro una piccola parentesi non è che si compila tutto c'è una cache di pacchetti che sono pre compilati che uno scarica altrimenti sarebbe veramente troppo gantù ma detto questo arriviamo a qualcosa di finalmente utile perché finora abbiamo parlato di linguaggio però insomma a meno che non siamo computer science ci piace particolarmente le cose funzionali un linguaggio di programmazione è interessante fino a certo punto vediamo qui la derivazione che mi permette di avere un pacchetto allora tutto quello che abbiamo visto finora ci aiuta nel capire che cosa è questo il risultato di questa cosa qua c'è qualcuno che voleva azzardare che cos'è questo valutando tutto questo file il risultato qual è che tipo vi do un int tutti timidi il risultato di questa è una funzione ok questi sono gli input e questo è l'output ovviamente non è super super chiaro ok allora è chiaro che questi sono degli input perché li abbiamo visti come funzione quindi questo è un attribute set che ha tre tre attributes che uno deve passare perché non è chiaro perché adesso dopo i due punti dovrebbe esserci il corpo della funzione ma il corpo della funzione è esclusivamente composto dalla chiamata di un'altra funzione che è questa stdm mk derivation ok poi abbiamo rec che l'abbiamo già visto che ci permette di autoreferenziare l'attribute set e poi stiamo passando un attribute set questo qua è un attribute set ok questo attribute set ha un nome che si chiama pname ha un campo che si chiama pname campo che si chiama version un campo che si chiama src un campo che si chiama meta cosa c'è in src qua stiamo chiamando un'altra funzione e li stiamo passando ad un attribute set questa funzione si chiama fetch url e prende un url e uno sha di questo mi scarica il mio pacchetto e verifica che lo sha matchi con questo questo ci aiuta ovviamente non tanto per le reproducible builds ma più per che qualcuno non cambi qualcosa l'url da sotto il culo e poi non ti compila più perché magari hanno cambiato qualcosa mentre se tu confronti lo sha ovviamente questa il download fallisce ovviamente l'altra ragione ancora più di fondo è sei sicuro che hai scaricato la cosa giusta in sostanza che non ci siano stati problemi durante il download poi abbiamo l'attributo meta qua stiamo usando with with cosa ci importa ci importa tutte le cose di lib questo si poteva evitare bastava scrivere lib.licenses.gpl3 plus questo è un modo per codificare immagino che questo sia un valore probabilmente numerico o magari anche stringa che mi definisce qual è la licenza ok quindi con questo noi installiamo il pacchetto hello se volutiamo questa cosa qua l'altra cosa adesso saliamo di gradi di importanza e di interesse è spawnora una development shell cos'è una development shell l'idea è quella che anzi l'idea di fondo è che docker è un po' rognoso ok quindi fare tutti i miei build di docker per quanto con viso studio code magari potresti fare il tuo development container è un po' arzicocolato devi fare il mount poi magari per me si non vanno perché stai facendo rootless e cose del genere è molto più facile avere direttamente tutti i tool installati nella tua shell normale diciamo e da questo è nata la development shell quindi ripeto la domanda che cos'è questo quale sarà il tipo di questa valutazione sempre quello sempre una funzione ok qua abbiamo un argomento di default perché questa cosa qua perché import nix pick up a gs abbiamo come abbiamo visto prima mi importa il master ok mi importa l'ultima versione dei pacchetti però questa cosa qua vuol dire che se qualcuno committa qualcosa io potrei importare una versione diversa delle mie dipendenze e quindi il mio il mio argomento qui mi dice che qualcuno chiamando la mia derivazione può passarmi una versione fissa dei pacchetti cioè pinnata a un commit particolare del mondo che è nix pick up a gs ok e questo mi aiuta nel pinnare le mie dipendenze praticamente no cioè fermare le mie dipendenze a una determinata versione poi cosa abbiamo abbiamo un messaggio anzi abbiamo un nome che viene bindato a una stringa e poi abbiamo mk shell no cc questa è una funzione di nuovo che prende un argomento che si chiama packages e un argomento che si chiama shell hook ne prende anche molti altri ma non è importante allora packages è importante perché allora mk shell è una funzione che crea una shell ok e crea una shell con questi con questi pacchetti allora questa è la stessa cosa che abbiamo fatto la command line all'inizio ok nix shell meno p caos a questa è la stessa cosa ma questa posso committarla direttamente nel mio repository insieme al codice della mia applicazione ok e tutti quanti possono fare nix shell senza niente e gli parte questa shell con tutte le dipendenze già fatte ok non solo perché i pacchetti sono solo una piccola parte delle cose che potrei voler impostare posso impostare per esempio variabili d'ambiente settandole direttamente qui dentro oppure questo shell hook che non è niente di meno che un comando che viene eseguito quando entro nella shell ok questo possiamo vederlo qua allora come vedete qua c'è uno shell punto nix il nome del file deve essere shell punto nix per farlo auto prendere su da nix shell io batto nix shell senza niente sì è un po' lento non lo so però sicuramente adesso io non ho pinnato il nix pick up a gis quindi lui adesso mi sta scaricando l'ultima versione del master cioè sta andando a pescare l'ultima versione del master vabbè andiamo avanti ok quindi questo questo è un modo per spawnare il mio development environment direttamente e tenerlo tracciato ed evolverlo insieme alla mia applicazione infine questo è il massimo è il stato dell'arte infatti è un affitto sperimentale si sono i flakes i flakes sono un upgrade diciamo della gestione normale di nix perché mi permettono di specificare in maniera ancora più precisa tutti i miei input e tutti i miei output è un po' simile a package.json o pyproject.toml per python o per no.js o per javascript quindi io ho due file invece di uno uno che si chiama flake.nix che mi definisce qual è il mio environment e uno che si chiama flake.lock che definisce qual è la versione questo mi permette di fare lo snapshot automatico quindi io nell'attimo in cui faccio il primo nix nix flakes il primo comando nix flakes lui si scarica e si salva tutte le hash delle mie dipendenze e poi reinstalla tutto alla stessa versione automaticamente qualcosa simile questo qua non è proprio un flake per la nix shell questo è un flake per nix os in verità per la configurazione però vedete che qua le cose sono simili qua in verità non abbiamo una funzione ma abbiamo soltanto un attribute set dopo lo vedo anzi esatto demo time vediamo un attimino alcuni flake e intanto vediamo se si ecco vedete adesso si è aperta quindi questa è una shell che si è aperta prima che ha caos a e ha lolcat voilà allora vediamo vediamo un flake allora vediamo per esempio la mia configurazione di tutto il mio sistema allora vediamo prima la cosa meno interessante che è flake.lock qua vedete last modified hash questo qua per tutti gli input del mio flake c'è questa cosa qua che mi pinna il valore passiamo sul flake allora description inputs quindi questi sono i build input del mio flake quindi io uso nix pick up ag poi uso nix darwin perché sono su make os e poi uso home manager che lo vedremo tra un po' dopodiché i miei output sono me stesso nix darwin nix pick up ag home manager e poi chiamo la mia configurazione in realtà la configurazione la chiamo più in basso ma bindo la mia configuration a una funzione che prende i pacchetti e ritorna un attribute set questo attribute set è composto da un nome che si chiama environment che è un altro attribute set che ha dentro un system packages che ha un altro nome e questi sono tutti i pacchetti che io ho installato ce ne sono un po' giusto due o tre poi ci possono fare queste bellissime cose tipo prevedere che i miei il mio python abbia già dei pacchetti preinstallati dentro e questo è il modo per farlo dopodiché per esempio voglio abilitare il servizio nix daemon che mi aiuta per buildare le cose in background voglio attivare l'experimental feature dei flakes voglio usare devenv che vedremo tra poco voglio abilitare la mia zsh come shell di default voglio esportare questa cosa qua come funziona? e questo è il bello un po' di nix io in sostanza posso dirgli in etc zsh env scrivimi questa cosa qua e lui la scrive questo è il contenuto ogni volta che tu applichi lui verifica che questa cosa ci sia là unlawan free è lo stesso significato di devian diciamo e poi qua ci sono addirittura delle impostazioni che sono solo per macOS ok e questo era soltanto il let ricordiamoci siamo arrivati da qua questa è la vera cosa quindi qua vedete vedo crea una darwin configuration chiamo una funzione che si chiama darwin system la stessa cosa esiste per nix OS si chiama nix OS system e qui li metto dentro i miei moduli i moduli sono un array di è una lista di attribute set che devono avere appunto alcuni determinati valori che il sistema si aspetta quando poi crea il tuo environment e basta questo con un comando stavolta diverso che dipende da nix OS o darwin OS che è nix OS rebuild switch o darwin darwin rebuild switch mi applica la configurazione vediamo velocemente anche alcuni tool home manager l'avete visto home manager è basato su nix e serve per fare una gestione riproducibile di home directories delle utenti mi permettono di configurare software file di configurazione dot files diciamo variabili d'ambiente o anche file arbitrari in posizioni arbitrarie e questo riduce il tempo di essere operativo su un nuovo computer a più o meno 10 minuti che è il tempo di installare nix fare git clone del mio repository e applicare la configurazione la cosa bella è che con questo io posso gestire i sistemi operativi più sistemi operativi perché come vedete qua questo è per deep thought che è il host name di questa di questa macchina io qua posso avere un array di queste configurazioni una per ogni computer che amministro e quindi ho tutto centralizzato nello stesso posto e poi c'è anche dev env che è anche molto interessante che è un upgrade delle dev shell cioè delle development shell che abbiamo visto prima quindi ti permette non solo di specificare variabili d'ambiente dipendenze ma anche per esempio di lanciare processi long running oppure configurare per esempio pre commit e cose del genere e possiamo vederlo molto velocemente nell'altra cartella ecco vedete questo questo qua questo output che vedete fa parte di DRENV che è un'applicazione un programma standard che quando cambio di cartella mi guarda se c'è un file nvrc e me lo applica e questo questo file nvrc applica vedete il mio flake.nix che contiene un flake che usa questo dev env va beh la configurazione non è super importante vado veloce quindi vedete qua c'è un bellissimo admin password uguale a stif questo setta una variabile d'ambiente mi installa tutti questi pacchetti abilita il linguaggio python con questa versione posso scegliere la versione per esempio abilita divtastic dentro git in modo che quando ho fatto git diff mi mostra già usa divtastic come git div tool e per esempio abilita precommit hooks di black quindi prima di fare il config questo me lo configura già automaticamente faccio git commit lui mi fa il black prima e questo è già preconfigurato e anche questo ovviamente è pinnato e quindi se io voglio ho il controllo di quando voglio aggiornarlo cioè io faccio nix nix flake update e lui vedete inizia a scaricare l'ultima versione di nix os aggiorna flakes.lock e poi la prossima volta che io batto invio mi installa tutte le mie le cose aggiornate nix os è out of scope perché se no non ci stiamo proprio però nix os è tutta la distribuzione linux basata su questo quindi con un file di configurazione tu ti configuri tutto il sistema uno o più file di configurazione diciamo è molto carino datci un'occhiata perché secondo me vale la pena e con questo domande o altre cose se no ci siamo ci siamo ci siamo tutti troppo troppo fame vedo qualcuno che sta eccola 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 ecco ecco c'è una domanda sì senso arrivo veloce che se no si scuoce la pasta mi sa stiamo stiamo sforacchiando il timing quindi una roba velocissima una roba super lepre la domanda è perché dovrei preferire utilizzare nix per la gestione di dipendenze rispetto a una build tool già pronta è una buona domanda la risposta è che se ti piace nix con nix puoi fare tutto dal gestire la dipendenza del tuo progetto al gestire il tuo computer al gestire il tuo sistema operativo quindi l'idea è che tu usi una sola cosa per tutto quanto e hai il bonus di avere anche il CICD con lo stesso tooling per tutto di questo è il maggiore vantaggio nonché non tutti i build tools supportano riproducibilità completa quindi molto spesso magari non hai controllo su tutte le tue dipendenze sto parlando principalmente di linguaggi di programmazione per esempio che non hanno un package manager tipo C++ C queste cose qua non hai l'equivalente di cargo o npm per pinnare tutte le tue dipendenze a una versione specifica quindi questo secondo me l'aumentare la riproducibilità aumentare la riproducibilità cioè avere una riproducibilità esatta avere tutti lo stesso environment senza usare docker bene